Scafisti! 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 Europeans, abusivo! Grazie. Io ho avuto un incontro con il sindaco, con il consiglio comunale, ho ricevuto anche una parte di coloro che mi hanno consegnato un documento, coloro che hanno firmato per la chiusura dell'ospedale. Noi quello che ho detto è che la situazione per noi è seguita nel senso che so che c'è stato un periodo molto intenso che arrivi e certamente la comunità di Lampedusa non deve essere gravata più del dovuto, tant'è che noi stiamo cercando di fare con rapidità i trasferimenti del caso per far sì che l'hottospot sia sempre libero sgombro. Abbiamo raccontato di quello che stiamo facendo a livello di incontri con i paesi di partenza cercando di trovare delle soluzioni che possano non pesare su questa comunità. Grazie. 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 Grazie.